Si parte dalle stanze più esterne per arrivare alle scale. Dopo la sanificazione di ogni stanza, il soldato avverte ad alta voce che l'ambiente è divenuto sterile. Quante sono le RSA del Piemonte su cui state operando? Sono circa una cinquantina, selezionate e comunicateci dall'unità di crisi della regione. Attualmente questa è la numero 22. In meno di un'ora la struttura è pronta. Si posano le pompe a mano, si gettono via le tute sporche. Un mezzo militare sanifica l'aria esterna con spruzzi di soluzioni cloridriche. Adesso calcoliamo almeno un'oretta per entrare su il terzo piano. E poi potete cominciare a fare utilità di pulizia.